Ho fatto un master, è art direction, è graphic design pure lì. Quando è che hai iniziato a fare graffiti? Ci sono secondo me tanti tipi di art director in realtà, non tutti lo fanno nello stesso modo. Per essere secondo me un bravo art director devi avere un background abbastanza gremito, di contaminazioni varie. Diciamo che il graphic designer è estremamente tecnico. Il segreto per rimanere super creativo è... Questa domanda non voglio rispondere perché io mi auguro di no, sinceramente. È un fortissimo strumento per la creatività. Mi stai facendo delle domande difficilissime, mi sento tipo un esame... Ciao, io sono Elgazi e questo è il podcast di Elgazi. Oggi, dopo tantissimo tempo, siamo tornati, siamo tornati finalmente a questa puntata del podcast. Dopo un sacco di tempo fuori, siamo rimasti senza le puntate. E la puntata di oggi abbiamo Jessica Luce Puleo. Benvenuta, benvenuta al podcast. Ciao. Ciao, ciao. Senti, ma raccontaci un po' chi sei, perché alla fine noi ci siamo conosciuti prima, ma chi adesso ci sta guardando... Chi sei tu? Chi è Jessica? Allora, Jessica Luce Puleo è il mio nome, quello che mi hanno dato i miei genitori. In arte sono di star, perché diciamo che ho due... Cerco di essere due cose diverse che quando possono si incontrano un po', ecco. Un art director che fa anche la lettering artist, cioè spinge anche una carriera nel mondo del lettering, molto incentrata sulla tipografia delle lettere su foglio, su muro, sia sia altro supporto anche digitale. Ok, perfetto, perfetto. È molto interessante il mondo del lettering, approfondiamo man mano. Tu che percorso di studio hai fatto? Cioè, qual è il tuo percorso di studio? Allora, ti spiego, è un po' articolato, ma nel senso che sempre sulla stessa tematica, diciamo che ho seguito una linea, poi ho espanso un attimo le mie competenze. Ho studiato all'Accademia di Belle Arti di Palermo, ho fatto lì l'indirizzo, l'altriennale in graphic design, mi sono laureata lì e nel frattempo lavori chiave un poco per potermi mantenere con cose sempre attinenti al nostro settore. Soprattutto lavoravo con la fotografia, che è stata una delle mie primissime passioni. In realtà, quando ero più piccola volevo diventare una fotografa pazzesca. Poi col tempo... Cosa è successo? Non lo so, ho un po' mollato. In realtà col tempo poi ho riscoperto un'altra passione, quella del lettering. Diciamo che mi sono poi concentrata più sempre sulla grafica, queste cose qui. Ho lavorato per due anni e mezzo in un'azienda palermitana, sempre un'azienda che aveva praticamente un reparto di comunicazione interno. Azienda nel settore food e ristorazione, che ha diverse stack house, insomma facevamo dei prodotti anche abbastanza interessanti per quello che è il panorama palermitano. Quindi un tipo di comunicazione anche molto ispirata a quella di McDonald's e a queste cose di qui. Ai grandi marchi. Lavorando ho capito che c'erano delle cose che magari mi piacevano di più e altre che mi piacevano un po' meno. E ho voluto approfondire semplicemente quelle che mi piacevano di più, che era l'aspetto pubblicitario. Quindi sono partita e sono andata a Milano, che è il posto in cui mi trovo attualmente. E ho studiato, ho fatto un master in art direction e graphic design pure lì. E ora lavoro come art director in un'agenzia pubblicitaria milanese. Come si chiama? È Gitto Battaglia 22. Gitto Battaglia, ok, ok. Sì, lavoro con Vicky e Roberto, che diciamo chi lavora nel mondo della comunicazione conoscerà sicuramente. Mi trovo bene, ci lavoro circa da due annetti praticamente ormai. Ok. E nel frattempo spingo quello che ti ho detto prima, che è un'altra carriera anche molto più artistoide, artistica, dove posso dare sfogo a tutto quello che generalmente non posso fare, che è appunto nel campo più del lettering. Si ricollega in realtà a una mia vecchia passione che è quella dei graffiti. Ah, figo, figo. Infatti ho visto, ho dato un'occhiata su Instagram, lo stiamo guardando anche noi in questo esatto momento. No, in particolare, perché tu hai ripreso quella, la storia dei graffiti, ma quando è che hai iniziato a fare graffiti? Ma in realtà ho iniziato a fare graffiti che avevo 14 anni, considera che ora ne ho 31, quasi 32, per cui metà della mia vita fa. Ho iniziato creando tipo una piccola crew con dei miei amici, eravamo tutti piccolini. Niente, sulle cose che si fanno quando si è ragazzino, è un po' così all'avventura. Però ero tremendamente affascinata proprio dal lettering. Non ho mai fatto figurativo, sempre solo concentrata sul lettere. Cioè mi ricordo addirittura che alle scuole medie, alle scuole superiori, soprattutto i miei banchi di scuola, erano pieni di mille lettere fatte in diversi modi. Però effettivamente non avevo mai pensato che questa cosa potesse essere, in futuro potesse diventare un lavoro. Tanto che in realtà quando ho iniziato a studiare l'Accademia di Belle Arti, l'avevo un po' abbandonata questa cosa, nei primi anni. Mi ero concentrata su altro, semplicemente. E poi, magicamente, proprio perché io ci credo tantissimo al destino, quindi penso che sia stata anche una cosa del destino, un mio professore aveva studiato con De Faccio, che è un calligrafo italiano importantissimo, e fece un corso in Accademia, un corso facoltativo tra l'altro, che tu puoi scegliere o no, in cui lui dava delle nozioni di calligrafia, le basi, eccetera, eccetera. Poi chi voleva approfondire poteva continuare a studiare con lui, anche fare altri workshop, eccetera, eccetera. E io rimasi proprio incantata da questa cosa, nel senso proprio dalla bellagrafia. Fu una cosa, un amore a prima vista, ma in realtà era come un riprendere quello che già avevo fatto, anche in modo diverso. E niente, da lì ho iniziato di nuovo a ristudiare tanto su questa cosa, ho abbandonato quelli che erano gli spray. Hai lasciato proprio perdere gli spray e sei andata sui pennelli, giusto? Sì, i pennelli, i pennini, i rulli, tutte queste cose di qua. Ok, ok. Ora, andando più avanti, diciamo che ho comunque sia implementato quello che uso, però ti posso dire che nei primi tempi ho ricominciato proprio dal foglio, quindi dalle brush pen e tutte le altre cose che sono attinenti alla calligrafia. E niente, diciamo che per caso questa cosa mi piaceva così tanto che ho iniziato a pubblicare le mie prime cose, i miei primi schizzi su Instagram, così, ma senza nessun tipo di… Ancora lì non avevo neanche realizzato che potevo lavorare con questa cosa. In realtà mi iniziarono a chiamare delle prime persone magari interessate più a quel tratto, che volevano fare magari dei loghi, delle grafiche, oppure che ne so, applicazione su dischi, copertina di album appunto per cantanti, eccetera, eccetera. E da lì mi si è aperta questa strada che continuo comunque sia a percorrere. Poi è arrivato a un certo punto in realtà dei fogli mi sono rispostata ai muri, perché non mi bastava un foglio a tre per scrivere. E ho anche abbandonato anche un po' la calligrafia e mi sono rivolta di nuovo verso lo studio del lettering, ma molto più su nozioni tipografiche, ecco, non liberissimo. Mettendoci anche un pensiero spesso, che è quello che magari non facevo prima, ed è quello che ho allenato invece facendo la direction. Quindi magari ogni opera che faccio ha sempre comunque sia un focus specifico, un tema, una tematica, un messaggio. Cerco prima di studiare prima, perché voglio arrivare, magari quello che scrivo, che faccio, voglio che arrivi a quanta più gente possibile, nel modo più giusto. Certo, e poi se c'è un messaggio dietro, assolutamente. Aiuta a passare anche il tuo lavoro in maniera diversa. Esatto, esatto. Se viene visto in maniera diversa. Un valore aggiunto, diciamo, ecco. Eh, esatto, esatto. Ma tu hai nominato, siamo parlando di art direction, e vorrei che tu dessi una descrizione di cos'è un art director, anche se noi due ci capiamo, però raccontiamo un po' che cos'è. Che cos'è un art director? Ah, un art director è quella, diciamo, ci sono secondo me tanti tipi di art director, in realtà, eh, non tutti lo fanno nello stesso modo. In realtà il goal sarebbe essere quella persona che davanti a un brief, e davanti a un concetto, riesce a mettere a terra quello che può essere la grafica, un logo, o una pubblicità, in un determinato stile, dandogli una determinata, appunto, art direction. Solitamente dovrebbe essere, appunto, una persona che ha delle nozioni, deve essere una persona che ne sa di fotografia, di grafica, di arte, cioè, deve avere comunque un background. Per essere, secondo me, un bravo art director, deve avere un background abbastanza gremito, ecco, di contaminazioni varie. È come attingere poi da quello che hai visto, da quello che vedi, da quello che sai, per creare le cose migliori, ecco. Cioè, o quantomeno nel modo più, più, più bello possibile. Poi ci sono dei art director che cercano di imporre molto la loro cifra stilistica, e sono più incentrati, quindi, a quel punto, verso il design, magari, e sono più designer. Certo. E altri art director che, che magari, che anche quella, sicuramente una cosa giustissima, riescono ad approcciarsi a un e-brief, con un attitude e uno stile completamente diverso, a seconda, appunto, del cliente che si è davanti. Ci sono quelli che, appunto, tendono ad imporre una cifra stilistica, più o meno, e vengono magari cercati per quel determinato prodotto, in quel modo, ed altri che lo sanno fare benissimo, nel modo, appunto, diverso, ecco. Sì, sì, sanno adattarsi al brief, o magari a uno stile diverso. Esatto, esatto. È bello. Ma è una bellissima descrizione. Grazie. Definiamo un po', un po' le cose. Ci sono tanti graphic designer che si definiscono anche art director, ma qual è la differenza tra i due? Diciamo che il graphic designer è estremamente tecnico, e deve, per essere un bravo graphic designer, deve essere veramente una bomba nella tecnica, nella precisione. L'art director, spesso, deve essere, prima, un graphic designer, che magari poi si è rivolto ad altro. Cioè, io sono contro quelle persone che dicono che, no, io sono un art director, ma non ho mai studiato grafica. È impossibile. Comunque sia, è la base di tutto, non puoi ignorare quella parte lì. È come se fotografassi, e mi dicessi che fotografi, che quando scatti, scatti solo in JPEG. Non ha senso. Sì, e rispettare il RAW, perché poi puoi editare le foto nel miglior modo possibile, avendo tutte le informazioni. Diciamo che, secondo me, è una tappa obbligatoria. Però, tra chi sceglie poi di fare art direction, e chi invece rimane nel graphic design, la differenza è che il graphic designer, puro, vero, è un tecnico assurdo, che ti sa fare degli esecutivi, nel modo preciso. È impossibile, magari, per un art director che invece non ha approfondito poi quelle a determinati parti. In realtà, penso anche che in Italia ci sia questa distinzione, come se i graphic designer siano un po' quelli che fanno meno, quelli tipo le persone a cui, tipo le ruote di scorta, molto spesso. Ma in realtà a me sembra che i graphic designer in Italia fanno tutto. Esatto. Esatto. Oppure quelli a cui dare, che ne so, cioè, in agenzie di comunicazione magari si pensa che sono quelli a cui dare i banner, le cose che devi smazzare, ecco, in maniera massiva. In realtà non è così, cioè, il graphic designer comunque, cioè, allena anche il pensiero. Non la vedo una figura inferiore, ecco, rispetto a quello che è il art director, invece molti lo pensano, e questo mi dispiace. Ma, eh, infatti, infatti molti lo pensano perché non hanno capito la figura, no? Esatto. Le figure in generale. Io penso che comunque sia questa distinzione così netta e in questo modo anche demeritante per i graphic designer ci sia più che in Italia. Assolutamente. Penso che, cioè, ci sono graphic designer e designer potentissimi come, cioè, Seth Meister, David Carson, che hanno fatto la storia, è impossibile. Cioè, non, anche quelli comunque sia, sono dei graphic designer, ma che sono magari più famosi di miliardi di art director. Quindi non penso sinceramente che sia adeguato e giusto reputarli come dei esseri un poco più giù nella catena della comunicazione o quello che è appunto della grafica in generale. No, ma infatti secondo me c'è sempre stato un... non si è mai capito i ruoli benissimo come funzionano nello specifico. Si pensa a chiudere il lavoro, a fare il lavoro, a portarlo a casa. Però bisogna un attimo definire, capire le figure affinché tutto funzioni anche bene, no? All'interno di un'agenzia, all'interno di uno studio. E io spero davvero che anche questa puntata del podcast aiuti a capire anche le varie figure. Esatto. Però si parla di hierarchia comunque tra art director e designer e graphic designer? Di hierarchia, intendi? Di hierarchia, sì, scusa. Ma io in realtà non voglio intenderla così, eccetera. Ah, ok. Le figure separate come l'art director e il copywriter. Ok. Non mi piace il fatto di fare questa hierarchia perché per me hanno la stessa importanza. Cioè non è un'evoluzione del graphic design? No, 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 in realtà no. Perché se mi parli di evoluzione del graphic designer in quanto evoluzione io penso che sia una figura sempre migliore del graphic designer. In realtà non è così appunto rispetto a quello anche che ci siamo detti prima. Magari ci sono dei hierarchi che hanno un focus più su determinate cose e magari peccano tantissimo dal lato grafico. Sono più di pensiero hanno allenato molto più il pensiero quindi sono più attenti all'insight eccetera eccetera e magari i graphic designer fanno altro però non mi sento di poter dire che sono entrambi necessari ma non possono essere messi uno sotto l'altro secondo me io proprio anzi lotterei e lotterò anche in futuro per questa per eliminare questa cosa anche in Italia. Anche perché poi sai che cos'è? Che in realtà ho scoperto anche che certi stipendi sono anche inferiori quelli dei graphic designer hanno dei step un po' più pagano anche un po' meno banalmente se si fa una ricerca veloce su Google metti lo stipendio di un art director dopo x anni e tot quello di un graphic designer magari si ferma più in basso. Questo in Italia non so da altre parti però non mi sembra comunque una cosa giustissima beh ci sono svariate svariate come ingiustizie nel mondo delle comunicazioni agenzie eccetera è come se lavorassimo con quello che c'è ma va bene ci sta ci sta ci facciamo ci facciamo le ossa dai com'è che combini il lavoro da art director mi hai detto che sei molto occupata come art director ma come combini il lavoro tra il lettering e l'art direction allora ti posso dire che in agenzia ho fatto dei lavori molto interessanti anche proprio di contenuti di livello stistico secondo me molto molto alto unendo la calligrafia e l'art direction perché per esempio ho fatto una campagna per Cusumano Cusumano Vini che è un cliente che abbiamo in agenzia qui ho fatto una campagna social e abbiamo fatto delle praticamente erano delle copyhead che però avevano una forma che riprendeva la bottiglia appunto del vino è uno dei titoli che avvertevano tutti sulla sulla sostenibilità ma noi lo riusciamo a vedere dal profilo Behance o Instagram vai su Behance ok eccola qua trovato intanto tu non l'ho trovata io l'ho trovata io intanto spiegaci un po' questa è una campagna a cui siamo legatissima perché in realtà è stato uno dei miei primi lavori miei primi lavori in agenzia il copywriter quello con cui ho fatto queste cose tra l'altro è stato Vicky per cui lavorare direttamente col direttore creativo per me è stato stimolante molto bello e poi ci ha aiutato anche un altro ragazzo che si chiama Riccardo detto Riccardino sentire al mai questa cosa e niente questa campagna è andata bene aveva un approccio diverso rispetto a quello che Cusumano aveva e ha sempre avuto Cusumano è un brand che comunica molto come se fosse anche un editoriale di moda spesso ha un trattamento molto alto molto cioè Roberto in questo è molto attento e diciamo che quella campagna lì si distaccava un po' aveva un approccio possiamo dire un po' più pop diverso che però ha funzionato molto poi abbiamo fatto anche un'agenda rivolta solamente al campo ristorazione un'agenda enorme che aveva tutta un'introduzione fatta con delle scritte a mano che è piaciuta tantissimo abbiamo costruito un'intera campagna su questa cosa di qui questo ti dico che è un lavoro a cui sono sempre attaccata perché in realtà è la prima mia cosa forse che è uscita ufficialmente in agenzia diciamo che forse il primo lavoro in un modo nell'altro te lo ricordi sempre soprattutto se l'hai fatto tu e ci hai messo del tuo proprio per questo perché ho anche sfruttato la calligrafia cioè fare il mio primo lavoro così per me è stato comunque sia importante no certo io ho dato adesso sto riguardando un po' le cose e devo dire che tu sei riuscita benissimo a lo stile poteva sembrare un po' troppo no con questa calligrafia brush pen poteva sembrare un po' più street e invece sei riuscita benissimo a combacciare le cose infatti stavo guardando sia su sfondo con il mare sia su sfondo nero quelli lì fanno tutti i territori perché la campagna andava a toccare anche dei punti che spesso questo brand enuncia sono la particolarità che è in Sicilia che tra l'altro conosco benissimo perché sono di Palermita in Sicilia ci sono diversi territori li abbiamo praticamente tutti puoi andare dal vulcano al mare alla terra c'è qualunque cosa e questa varietà di territori era anche uno dei punti focus di questo tipo di campagna di qua no bellissimo bellissimo adesso capisco perché ci ci tieni a questo lavoro molto interessante ma il creative director no siamo è come se ci fossero dei gradi di di conoscenze qua che stiamo cercando di passare abbiamo fatto designer director e direttore creativo raccontare la differenza tra direttore creativo e direttore artistico ma mi stai facendo le domande difficilissime mi sento tipo un esame scherzo no dai non sono difficili il direttore creativo dovrebbe essere l'evoluzione dell'art director o comunque chi ce l'ha fatta perfetto non è che tutti gli art director diventano direttori creativi io mi auguro che chi sia forte in un modo o nell'altro arriva ad essere un direttore creativo che ha sotto appunto art director copywriter tutti gli altri che non la impone ma comunque sia da una direzione chiara appunto per questo si chiama direttore creativo da una direzione da focalizzare da diciamo da percorrere no no ho capito benissimo che poi un direttore creativo può anche avere diciamo essere un imprenditore che apre la sua agenzia e poi si occupa della parte di gestione che di solito è quello che capita no? ma in realtà non tutti non tutti gli attivativi aprono delle agenzie chi magari ha un background tanto forte ha la possibilità soprattutto di avere dei clienti un portfolio diciamo gramito di clienti che poi ti seguono anche da un'altra parte magari appena vai via da un'agenzia decidi ok magari ho un'esperienza di 30 anni cosa faccio cioè dipendo ancora dagli altri no mi apro l'agenzia mia e a quel punto diventi un direttore creativo esecutivo che ha la sua agenzia e che ha i suoi clienti che li cura appunto no beh si è tu hai detto che è stata una domanda difficile però si hai capito benissimo la tua risposta è stata meravigliosa no no perché poi ho paura che dico qualcosa che non devo dire o lo dico nel modo sbagliato perché in realtà è quello che vivo quindi mi sento anche un po' abbastanza confident no ma assolutamente hai detto cose sicuramente precise anzi hai detto cose che non pensavo in una spiegazione di cos'è un art director o un designer di dirle sembra che ti sei preparata ti sei preparata no io giuro ragazzi non sapevo neanche che domande dovesse farmi una cosa che capita spesso ai creativi in generale sia art director designer capita capita spesso di avere dei blocchi creativi ma com'è che si rimane creativi perché visto che nel tuo portfoglio nei tuoi lavori tra l'agenzia e il lettering riesci a rimanere super creativa raccontaci il segreto il segreto c'è tanta droga no ma in realtà magari non si direbbe però sono una persona politissima come questa che non è neanche una sigaretta per cui allora il segreto per rimanere super creativo è secondo me allora non è che tutti sono super creativi allora partiamo da questa base per rimanere sempre una persona che è in grado di produrre delle cose belle perché può succedere che magari quando entri in agenzia o sei in studio stai lavorando c'è una routine così tanto forte e magari un progetto te lo trascini per un sacco di tempo ti dispendi un po' con la creatività perché ci arrivi un attimo gattonando poi alla fine del traguardo però secondo me è anche quello che consiglio a tutti è di trovare degli spazi per sé e per sfogare la creatività la tua creatività in un modo che non sia necessariamente legato al mondo lavorativo cioè d'agenzia o del tuo impiego nel senso oddio devo creare qualcosa per forza quindi quello esatto magari cioè tante volte arrivano dei brief che non ti piacciono e li devi fare perché il lavoro e lo devi fare sempre comunque nel modo migliore in assoluto diciamo che se invece riesci a ritagliarti un pezzettino di tempo in cui piano piano ti coltivi delle tue cose una tua passione che la so c'è qualcuno bravissimo nell'illustrazione ok allora nel tempo libero inizi a illustrare magari pubbliche qualche cosa può arrivarti anche qualche lavoro in quel modo diciamo che a certe volte il lavoro di agenzia è pesante altre volte è un po' più rilassato e quando è pesante il modo per rimanere comunque sia sempre col sorriso in faccia è sapere per me di avere poi di tornare a casa e magari fare altre cose o anche banalmente aprire il mio ipad e fare quattro schifo e disegnare a me fa stare bene quello ed è la cosa che comunque sempre mi ha più o meno salvata cioè per me effettivamente il lettering e la calligrafia tutto questo mondo che mi sono costruita intorno è una sorta di terapia cioè è stato il mio primo psicologo possiamo dire silente lui stava zitto scrivevo io però è una cosa è come dipingere è come per qualsiasi altro artista avere uno sfogo e quindi penso appunto se possiamo dare un consiglio alle persone di se sei un veramente un creativo hai anche la capacità di poter arrivare a delle cose da solo e quindi magari potresti coltivarle e ritagliarti quel tuo spazietto magari poi un giorno ti accorgi che ne so che ti vuoi mettere in freelance perché sei diventato fortissimo e quindi vuoi fare solo il tuo prodotto e magari invece rimani sempre a metà sei uno che lavora bene nel posto in cui lavora e che ha anche le sue cose insomma si possono comunque si trovare un compromesso ma il segreto diciamo che è questo forse trovare un compromesso ecco sì sì trovare un compromesso tra la creatività e il lavoro interessante interessante perché di solito il ragionamento che facciamo è ok un'agenzia creativa ci vogliono dei creativi e invece ogni tanto si perde è un po' quella creatività che serve nelle agenzie esatto si dovrebbe puntare anche avere degli spazi per gli artisti o i creativi per esprimere un attimo uscire da aiuterebbe l'agenzia aiuterebbe lo studio a essere più produttivo e uscire con dei contenuti migliori per i clienti ecco ok sì ma diciamo che ci sono delle agenzie che te lo consentono sicuramente ci sono dei posti che te lo consentono che puntano su di te che fanno del tuo talento un plus un valore aggiunto e magari altre che magari possono essere brand cioè agenzie un poco più grandi dove non puoi farlo non puoi farlo sempre dove sei comunque anche avvolto un numero purtroppo è questo anche che in agenzie enormi ho avuto dei colleghi che mi dicevano eh lavora in questa agenzia ma neanche se nel mio nome lo capita vabbè può capitare in network grandissimi dove ci sono migliaia di persone penso comunque sia il rapporto non è quello che mi alzo alla scrivania vado a dieci metri indietro e ci sono i miei capi che invece è quello che capita a me e ricollegandomi a questo direi forse di quando studiate quando intraprendete appunto un percorso e poi dovete immettervi nel mondo del lavoro cioè scegliete veramente bene quello che può farvi stare meglio lo so che non si può avere sempre la certezza di quello che ti farà stare bene o no però scegliete col cuore nel senso andate magari da chi capite che può alimentare il vostro talento andate da chi magari ci punta non andate da chi vuole una persona perché ci serve un graphic designer ci serve un art director potresti essere tu come altri milioni perché quello che potrebbe capitare è il rischio di finire a lavorare 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 senza senza stancarsi esatto o stancandosi e comunque dover lavorare no senti cambiando completamente argomento l'intelligenza artificiale io ho visto che ci hai conosciuto sei hai avuto un attimo hai guardato un paio di cose su mi giorni eccetera che cosa ne pensi è un bell'argomento l'intelligenza artificiale potrebbe essere un art director bu ma guarda questa domanda non voglio rispondere perché io voglio sinceramente allora sì allora attualmente la uso ho fatto delle cose anche belle è una cosa che senza l'uomo non può esistere di base ok perché se c'è dietro una persona che sa quello che vuole non ci arrivi al risultato che vuoi ottenere ok se vuoi che ne so un panino un ritratto di una persona in un determinato modo con un certo tratto statistico che riprende magari una corrente artistica X per dirti queste cose devo essere una persona che ha studiato che ne so da lì che ha quello che ha un certo background quindi di base in realtà forse quello è una safe zone nel senso sappiamo che fino a quando questi computer non inizieranno a pensare autonomamente questa cosa magari non potranno farla da soli forse manca poco io sinceramente lo uso per fare degli esperimenti molta sperimentazione perché è una cosa sicuramente che ci incuriosisce un sacco assolutamente e per ora lo sto usando per fare delle mood board che aiutano proprio il mio mestiere magari nel centrare alcuni punti o magari non trovo una foto in un determinato modo una reference in un determinato modo la cerco lì la digito nel modo in cui la penso io e magari a volte mi esce la cosa che proprio stavo pensando e dico ecco ce l'ho ecco qua sì 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 secondo me attualmente è a sostegno del lavoro che facciamo è un fortissimo strumento per la creatività esatto esatto quindi fino a quando è usata a sostegno sì non lo so se sostituirà mai qualche figura io mi auguro sinceramente di no diciamo che non è una cosa bellissima in realtà sai perché se in questo momento noi due fossimo dei visualizer saremmo un po' tipo oddio magari tra due anni non lavoreremo più perché ci sostituiranno i computer esattamente non è una cosa bellissima spero che non avverrà in realtà perché non mi piacerebbe che certe persone perdessero il lavoro magari hanno investito sulla formazione e poi viene sostituito da un computer non lo so come tante cose spero a tratti che sia tipo una cosa passeggera una moda passeggera che faccia il suo boom e poi a un certo punto se ne capirà diciamo il limite ne capiremo i limiti e quindi ok no è troppo limitante magari per certi versi però io fino ad ora questi limiti non li ho visti anzi da un giorno all'altro progrediscono continuamente quindi non lo so non so cosa pensare sinceramente guarda io ti dico la verità quello che penso io è che per il futuro e poi anche le persone commentate fateci sapere la vostra opinione per il futuro saremo meno meccanici produrremo cose sempre meno meccaniche e più creative e l'intelligenza artificiale sarà un grande strumento per aiutarci nella creatività i lavori meccanici saranno sostituiti come quello che stringeva i bulloni le industrie di macchine di produzione di macchine in serie finirai per non produrre più in serie e fare qualcos'altro esatto questa è un po' la mia idea ma chi se ne frega della mia idea chi se ne frega di quello che penso magari facciamo un podcast registriamo un altro podcast tra un anno e vediamo esattamente ciao benvenuti a questa nuova puntata in cui noi siamo rimasti senza lavoro esattamente esattamente beh diventate esperti di Midjourney di ChatGPT tra l'altro si potrebbe aprire un'agenzia solo con intelligenza artificiale il copy ChatGPT Midjourney ci fa le grafiche perché ChatGPT può farti anche il sito web cioè può farti anche un html vabbè non spaventiamo la gente però a me ci arriveremo davvero no assolutamente io sono sicura che al posto di magari prendere del personale che è così potrebbero anche pagare un abbonamento x e dire ok pago quei x euro x dollari all'anno al mese quello che è però so che c'ho sto coso che in un minuto mi fa questo e amen quello che è preoccupante secondo me è il fatto il fatto del del budget perché se le cose vengono fatte così facilmente cioè quale sarà l'azienda effettivamente che sarà disposta a mettere sul tavolo lo stesso budget che c'era prima cioè poi le cose si svalutano così capito ah sì questo è vero sì 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 ma quello che penso io io ad esempio come motion designer come art director e motion designer io penso che se pensi ad esempio tutti i siti che forniscono animazioni preprogrammate già pronte a dei clienti i clienti continuano a comprare queste animazioni eppure serve un tocco umano per fare certe cose ecco secondo me un motion designer un graphic designer che lavora con internet artificiale è un valore aggiunto che potrebbe fornire al cliente ad esempio essere più veloci potrebbe potresti essere più insomma non so cosa ne pensi te sì sì infatti ti dicevo prima che secondo me in questa fase di qua soprattutto per esempio la prima presentazione è che devi fare un cliente e devi fare un character ad esempio 3D e non puoi chiamare subito un 3D artist che ti fa una bozza perché non lo puoi fare materialmente brava brava cosa fai? ok io cerco vedo com'è come esce ok vabbè gli faccio vedere questo al cliente magari il cliente poi ti dice bellissimo e poi puoi comunicare al 3D artist un'indicazione puntuale dicendogli guarda deve venire simile a questo magari cambiamo questo quello quell'altro e effettivamente questa cosa mi è successa l'ho già fatta bello con mio cliente ho fatto una cosa del genere ora sto facendo lavorare un 3D artist su una bozza che abbiamo fatto su su me journey ecco Jessica tu ci hai dato un bello spunto perché magari potrebbe invece di avere quelle bozze all'inizio magari disegnate a mano che il cliente fa fatica a capire wow top mid journey bomba magari ti aiuta anche più facile cioè è anche più facile poi vendere i progetti perché spesso chi abbiamo davanti non sa le stesse cose che sappiamo noi non si può immaginare che la pelle verrà trattata in un modo che lo sarà in quell'altro modo semplicemente perché non perché sia uno scemo ma perché non ha non è confidente in quella cosa esatto e quindi secondo me lì sì è comunque un valore aggiunto in questo modo se viene usato così da supporto alla nostra attività Jessica io ti ringrazio tantissimo per per la tua disponibilità adesso anche in off facciamo due chiacchiere per per conoscerci meglio perché il copione che mi ha generato chat GPT l'abbiamo l'abbiamo finito quindi no non è vero non è stato generato da chat GPT non è vero non è vero non è vero ah ma è interessante mi sarebbe stato però una puntata magari la prossima puntata la posso fare la posso far generare dalla chat vediamo cosa viene fuori esatto chissà 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 ti ringrazio tantissimo grazie per vuoi fare un saluto vuoi dire qualcosa in particolare ma in realtà non se non quello di seguirmi ho un sacco di progetti che ancora devo mettere a terra e che mostrerò soprattutto riguardarti la mia arte ok su instagram si su instagram magari su instagram se state ascoltando è j facciamo così j di jesus e di empoli h d s t a r jade star su instagram j star su behance jessica luce puleo giusto esatto e potete vedere tutti i suoi lavori anche qualcosina fatta con l'intelligenza artificiale e lettering a manetta lettering che bomba il tuo lettering cazzo grazie che bomba che bomba e ovviamente se qualcuno ha bisogno di consigli o di qualcosa con quello che so almeno fino ad ora sono disponibili per qualunque chi è rimanto perché in realtà nel tempo mi hanno scritto delle persone anche che si volevano rivolgere agli studi magari che volevano intraprendere gli studi alla calligrafia del lettering che mi chiedevano come ci sei arrivata a fare sta cosa di qua quindi sono disponibile ecco ecco ragazzi contattatela alle 3 del mattino alle mezza la cosa migliore scrivete su instagram un messaggio una lettera dopo l'altra e siamo a post no quello no quel punto no per favore super disponibile anche noi commentate commentate sotto se sei su youtube commenta nel video se sei su spotify ascolta e basta perché non puoi commentare su spotify vai su youtube e commenta oppure contatta jessica nei suoi social in tutte le descrizioni trovate i suoi link il suo portfoglio e potete vedere questa puntata sia su spotify che su youtube jessica grazie io ti saluto ti saluto solo per chi ci sta guardando ma poi ci facciamo due chiacchiere grazie grazie a tutti per aver guardato ci becchiamo alla prossima puntata il gasi podcast il podcast sulla creatività bella sigla grazie a tutti